Siamo qui con il sindaco di Cherasco Claudio Boggetti, volevamo chiederle come mai Cherasco e sull'evento della Pantani Channel. Cherasco è la città delle tante manifestazioni, del mercato dell'antiquariato, delle mostre, della rievocazione di Napoleone, del premio Storia, premio Reviglio, premio Gino Lagorio. Quest'anno ospita anche questo evento che è un po' la presentazione delle manifestazioni legate a Pantani in terra francese e lo ospitiamo in modo favorevole, nel senso che ci fa veramente piacere anche perché a Cherasco riscede l'organizzatore di tutto questo mondo legato al pirata, al grande campione Marco Pantani che è Sergio Piumetto. Quindi con piacere abbiamo accettato questa presentazione che si terrà il 9 aprile qua nelle nostre strutture all'interno del comune di Cherasco. proprio per ricordare questo grande campione che è stato un po' in qualche occasione dimenticato mentre riteniamo che sia stato veramente grande per le sue imprese che ha fatto anche sulle nostre montagne qui vicino a noi. Sulla destra e scatta! Scatta Marco Pantani! Mancano 16 all'arrivo, risponde Hamilton, quindi V-Rank, poi Livingston, Marco Pantani, l'ennesima accelerazione in questo Tour de France. Siamo con Sergio Piumetto, mediatore di questo evento del 9 aprile. Ciao a tutti, vi presento un evento che si svolgerà qui a Cherasco il prossimo sabato, vi attendo tutti. Il 9 aprile appunto, come diceva Lino, presenterò tre eventi che si svolgeranno in Francia quest'estate. Praticamente il 19 di giugno a Valois Col du Galibier presenterò il monumento Pantani Forever in occasione del centenario del primo passaggio del Tour de France sul Galibier. Il secondo evento si svolgerà sempre a Valois Galibier il 23 luglio e sarà la Green Pea della Legende Pantani Forever, praticamente il giorno dopo il passaggio del Tour de France. Gli eventi in Francia concluderanno, si concluderanno alle Desalpes il 14 di agosto, sarà la settimana completamente dedicata a Marco Pantani dal nome Pantani Week. Vi aspetto tutti a Cherasco e ne approfitto dell'occasione per ricordare che sulla Pantaniciana potete seguire in diretta l'evento coprodotto da Bra in TV che colgo l'occasione fin da subito di ringraziare.